...evento in cui la città di Grottamare celebra il mese di marzo, dedicato al mondo femminile, ha un premio dedicato a Silvana Scaramucci, docente giornalista che con grinta e passione ha trasmesso la sua professionalità a generazioni di piceni. Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtù e canoscenza. Il premio Scaramucci per sguardi di donne va a un artista che l'eleganza del vecchio incasato e dei suoi monumenti ritratti nelle immagini che state vedendo, l'ha trasformata nel fascino e nella semplicità della pittura. Queste cartoline dipinte delle anime e dei landmark della città sono di Tiziana Marchionni. Ragioniera e da sempre amante dell'arte sotto legida di Cleto Capponi, Tiziana ha una carriera che vanta una mostra personale e numerosi premi a livello locale. Alcuni suoi quadri sono stati oggetto di premiazione ai più importanti premi della città, un'arte in cui Tiziana, come Silvana, mette al primo posto la sua passione e la sua propria. Grazie. 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 Grazie.